Ciao ma belli ragazzoni, come state? Tutti bene? Tutto opposto, tutto on top, tutto nel possiamo farlo, tutto nella norma, tutto che si completa, tutto che ritorna, tutto che rigira, tutto che si compatta, tutto che... Vediamo. Sono qui oggi per portarvi i due titoli. Qui parliamo nuovamente di film catastrofici. A questo giro abbiamo i film catastrofici, perché uno sono i fulmini e l'altro invece è il magma. Che si fa avanti in tutto... intorno, capito? Quello che c'è intorno. Allora, partiamo col primo che è Lightning Strike, spero averlo detto bene, 2009. È un film per la tv, in realtà sono tutti e due film per la tv, perché vedi che sono film molto semplici, li vedi anche in famiglia, non succedono troppe cose, non ci sono troppi ammazzamenti, non c'è troppo lo splatter, però c'è semplicemente anche questo, comunque, un'azione di pericolo. Allora, diciamo, partendo da questo presupposto, questi film un po' si copiano a vicenda, un po' tutti questi film qui, però in ognuno c'è un qualcosa che si può trovare un pochino più particolare. Un'altra cosa che non vi ho detto è che le trovate tranquillamente su Prime. Poi, allora, parlando di questo film del 2009, regia Gary Jones, che vediamo cosa ha fatto questo show, questo Gary, ha lavorato anche con la trova probabilmente, perché vedo che c'è delle cose. Cosa ha fatto anche Mosquito, poi Xena, e poi vediamo un attimo cos'altro c'è di merito, perché ci sono anche gli attori, tipo Kevin Sorbo, che è lo sceriffo di turno, che è uno dei più principali, capito? Che io ho rivisto in tanti altri film, e poi vediamo un attimo chi c'è. C'è anche David Shawfield, Annabelle Wright. Vediamo un po' anche loro che film hanno fatto, tipo... Vengance is mine. Vengance, non so come si dice di preciso. È bello fare le gaffe comunque quando non si sanno le cose. Robin Addison, come avevamo citato prima. Se mi carica, mi fa questo piacere. Ma intanto parliamo un attimo di quello che è il film. Allora, diciamo che partiamo dal presupposto che ci sono tanti personaggi stereotipati, forse a livelli un po' troppo, ok? Un po' più eccessivi. Perché quando si supera una soglia di quel livello, diciamo che diventa un po' tendente al cringe, al comedy. E probabilmente, essendo un programma TV anche un po' per sdrammatizzare, è successo ciò con questo film che noi abbiamo dinanzi sotto gli occhi. E ad esempio c'è lo sceriffo buono che però cerca di dire al sindaco che invece è un testa di cavolo, che c'è qualcosa che non va, saper succedere qualcosa, non viene creduto, il sindaco gli dice di fare come dice lui, se no non licenzia. Classiche cose, nessuno crede a nessuno, capito? Quindi lui ha interesse per fare i suoi soldi e diventa anche uno degli antagonisti principali, questo sindaco del quale vi ho parlato. Cos'altro c'è oltre a questi fulmini che possono colpire le persone? Ecco, questi fulmini possono anche aprire le macchine in due. Quella è una scena veramente carina che vedete subito dall'inizio. E penso sia anche una delle scene più carine del film, a parte un po' nel finale che c'è un po' di macello e qualche punto in più gli ci dà. Però quella mi ha colpito particolarmente anche perché è uno dei momenti principali dove vediamo anche questa creatura, perché sì, si parla anche di creature. Vi ho parlato di questo film come catastrofico, ma in realtà c'è un po' di fantascienza, anche in quell'altro. E qui la fantascienza l'abbiamo proprio da questo mostro che ha delle sembianze umane che scende tramite questa energia di luce, dei fulmini e inizia a spappolare le persone, a fare del casino. Oltretutto colpisce all'inizio uccidendo questo ragazzetto, lasciando vivo la madre che si metterà poi in unione con i nostri protagonisti per andare avanti nelle vicende. Non vi sto spoilerando tanto ragazzi, tanto sono cose che bene o male si vedono abbastanza presto, poi il resto ve lo vedete voi se vi ho incentivato a vedere questo film. Però questo bene o male è, c'è questo protagonista, c'è un pochino le vicende familiari, il ragazzetto che cerca di fare un pochino il ribelle, che però ha un buon cuore quindi cerca di prendere parte anche lui alle vicende, salvando il salvabile, anche cercando di salvare questa persona che aveva perso il suo figlio e doveva riuscire a combattere questo mostro, anche un altro, anche esso un elemento molto importante nel film e quindi è così che va avanti un po' il tutto nel chilling. Insomma, a tratti diciamo, a tratti sì, a tratti no, a tratti non si sa. Ci sono delle belle scenette finali come vi dicevo, sono abbastanza carini, guardabili come film in generale, anche perché non si perde troppo nella trama e soprattutto non ha troppi troppi personaggi, però diciamo che quei personaggi che ha sono giusti, perché come vi dicevo prima sono forse anche troppo stereotipati, quindi il suo, diciamo, il suo imprinting lo danno, lo premono, lo capito? Ok, questo era quello che velocemente ne pensavo di questo film, fammelo sapere anche te e scrivilo qui sotto. Poi vi parlo di un altro film, in questo caso del 2011, anche qui come vi ripeto, film per famiglia. Fra gli attori abbiamo... Abbiamo Giulietta Aubrey, che ha fatto primeral, e se no ci abbiamo, vediamo un pochino. Richard Burgi, che io ho rivisto in dei film, tipo appunto Hostel Party 2, qui mi cita, Dark Likes, oppure Tornato F6, un altro film bello catastrofico, magari è pure il seguito di questo, non lo so. Ci sta che l'hanno fatto e non ne so niente. Che ne sai, che ne sai, che ne sai. Ma è Anna Baring, che ha fatto 97 minuti. Lesbian Vampire Killers, che ho tutto scaricato. Ce l'ho, devo vedere, devo vedere. Non si dicono queste cose, però sono anche collezionista, quindi va a panculo. Prendo più film di tutti voi. Tanto prima o poi, le cose sul web, secondo me, spariscono. Vi dico il contrario di quello che vi dicono a voi, quando magari fate per più a un film, o lo dite a me, perché è sempre bello incentivare questo tipo di mercato, raga. Allora, però voglio darvi un pochino più informazioni riguardo a questa cosa, e voglio soprattutto vedere anche un attimo il regista, chi era, di questo film. Così vi dà un pochino di informazioni. In più, Matt Codd, che ha fatto pure Shark Hunter, Dragon Dynasty, Epoch, questi film è qui. Questo film l'ho visto molto più recentemente, quindi so dirvi anche un po' di più. E' carino per alcuni punti, e riesce sostanzialmente a differenziarsi da tanti film. Però appunto, parte da questo qui che vedi come un film normale, che si potrebbe vedere tranquillamente uno che gli piace, il genere delle catastrofi. Che però si rilegano, in un certo senso, anche a quello che può succedere nella vita di tutti i giorni, a tutti noi. Però, diciamo che si introduce a un certo punto questo elemento, che logicamente lo fa diventare un film in fantascienza. Allora, backup di quello che succede all'inizio. C'è lui che cerca di salvare dei personaggi che poi conosceremo durante il film, e in realtà le vede poi morire. E qui, in futuro ci sarà un bel colpo di scena, da questa cosa. Colpo di scena che io ho apprezzato. Non vi dico anche qui gli spoiler, però colpo di scena. Che ho apprezzato. Perché si differenzia un po' da ciò che si vede originariamente. Per il resto, anche qui ci sono pochi personaggi, però strutturati abbastanza bene. Sempre un po' lo sceriffo, che deve fare il suo gioco. Il ragazzetto che è un po' in prova da lui. Arriva la figlia dello sceriffo, il ragazzetto che ci prova. C'è un'altra lì nella stanza che lui ci parla, però, insomma, sembrano molto distaccati. Ovviamente. Poi, cosa succede? Perché diventa un film di fantascienza? Tutte queste scene che vediamo, che non ci regalano troppo troppo per quello che può essere. Perché comunque si tratta di magma e cose. Però in realtà ci sono delle scene veramente carine. Tipo uno che tramite una cosa viene spruzzato in aria, bollito, entra in aria. Oppure gli altri che vengono stionati con degli effetti poi dopo di make-up. Perché sono anche abbastanza decenti e giusti, carini da vedere. Quindi effettivamente il pericolo c'è. Il pericolo c'è. Io l'ho un po' minimizzato, però in realtà ci sono tante scene. Ed è riempito bene. Anche perché a un certo punto sembra tutto finito e invece c'è un altro casino. E questo qui è una cosa che regala il film. Oltre che del minutaggio, anche delle scene in più. Perché appositamente garba questo tipo di cose. Ecco, col fatto che si tramuta in fantascienza, non so se perde la stima di un po' del pubblico. Che magari è più legato alla realtà e non ha voglia di verersi un film di fantascienza. Oh, ma arriviamo a sto cazzo di punto. Perché fantascienza? Perché a un certo punto c'è la nostra protagonista. Che parla in videochiamata al computer con lei del futuro. E ti dice così. E lei fa anche simpaticamente. Ah, quindi siete solo io del futuro. Ok, quindi cosa mi vuoi dire? La lotteria, queste cose qui. Cazzo, digli la lotteria. Non gliela ha detta, bastarda. Ma come fai? Perché non gli dici di andare all'interno del tempo? Devi diventare... Vabbè. Comunque. C'è lei che ovviamente parla con se stessa del passato. E gli dice di non fare determinati errori. Che portano probabilmente alla conclusione di qualcosa. In maniera molto diversa. Quindi lei è in quella confusione. E che però capisce un po' la situazione. E si fa aiutare da se stessa. Capito? Puoi fare... Quando lo dirici, ti dà l'insegnamento. Solo di te stesso ti puoi aiutare. Solo di te stesso ti puoi aiutare. Bene. I bici non c'è una noia. È così che funziona. Niente. All'inizio sembra che comunque ci parla. E tanti dialoghi sono un po' vanvero. Vi dico la verità. Forse qualcosa c'era da rivedere un pochino più sul copione a livello di dialoghi. Sembra un po' vanvero. Perché alla fine non gli dice un cazzo. Cioè, sembra tutto molto così effimero. Non si capisce. Però qualche informazione giusta giusta un pochino più sul finale gliela dà. E soprattutto, comunque, anche se a inizio della fine sembra un pochino più scontato anche come finisce, si rifà subito dopo con un attimo questo colpo di scena che ci fa ritornare al punto di partenza. Nel senso che il pericolo non è ancora sconfitto. E dobbiamo ancora batterci per poterlo fare. On the top. Pb, c'è veramente... Never, 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 ma te lo sottolineo. Mannaggia, non c'è una cazzo di penna, sennò te lo sottolineo. Never. Al prossimo video. On the top.